Grazie per la visione! Finale di primo tempo tra Camate e Leonese, risultato di 3 a 2 per le Camate, siamo qui con il cognome? Troise. Troise, primo tempo che vede sul risultato di 3 a 2 per la squadra avversaria, non state giocando male, però in difesa troppi svarioni, diciamo così così. Hai fatto tu un intervistio? Devi dirmi il tuo parere. Possiamo fare di meglio. E cosa c'è da migliorare per il secondo tempo? Qual è il reparto da migliorare? In difesa, stare più addosso ai... Vai, vai, a parole tue, vai! Dobbiamo stare più addosso agli avversari, ciao! Ottimo! Allora, 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 l'ervista cognome? Castaldo. Castaldo, primo tempo che vede in vantaggio, è iniziata bene questa prima giornata Lady's Cup, cosa mi dici? Ma diciamo che possiamo impegnarci di più perché potevamo provare un paio di gol e di azioni in più. Cosa c'è da migliorare quindi per il secondo tempo? Ma giocare un po' più palla a terra perché non siamo abituati con questo pallone, in più il campo è bagnato quindi scivola pure, è difficile controllarla, dobbiamo giocare più vicine. Boccalo per il secondo tempo. Ora, se non da parte di gioco, un saluto da Boteviciare. Il finale di partita che ha visto affrontarsi le Leonesse contro la formazione Kama del risultato di 7 a 3, proprio per quest'ultima. Siamo qui con la migliore in campo, l'MVP, a cui diamo anche la medaglia che me la dà adesso tu. Diamo la medaglia, ora arriva. E qui con la migliore delle sue e delle Leonesse, Cotechigno. Partita, diciamo di rodaggio per voi. Mancava un po' di fiato, anche un po' di distrazione in difesa, posizioni così così in mezzo al campo. Cosa mi dici? Mancava tutto. Difesa, intesa, tutto. Poi loro sono state bravi. Senti, ma per le prossime partite cosa c'è da migliorare? Fase difensiva. Dobbiamo mantenere i ruoli. Quindi ho visto anche un nuovo innesto questa sera per voi. Sì, un sinistro in difensore, però deve mantenere anche la sua posizione giusta. Io ancora dite un po'... Stasera un po' così e così. Vabbè, la prima partita si può ancora migliorare. A chi vuoi salvare? A tutta la mia squadra. Va benissimo. Speriamo di migliorare. In bocca a loro per le prossime partite. Ciao. Siamo qui con l'NVP... Coglione, bisogna dire... Simia. Simia, ti consegniamo la medaglia MVP. Grazie. È anche un buono sconto. Questa è una novità SK, non ci facciamo mancare mai nulla. Ogni anno ci aggiorniamo. Senti, inizio veramente molto bene. 7 a 3 avete giocato veramente molto bene, cosa mi dici? Noi siamo un gruppo che comunque è abbastanza già erodato, quindi sì, è stato un buon esordio, diciamo. Molte le aspettative. Sì, sicuramente perché ho visto una compattezza di gioco veramente molto omogenea, siete state veramente molto brave, anche un Eurogoal per te. Bene, è la miglior maniera per cominciare, diciamo, vista la febbre tra l'altro, quindi sono contenta. Con la febbre Eurogoal. Mi sono autotremiata. Senti, vuoi fare una dedica a qualcuno a questa medaglia per questa vittoria? No, le persone negli ultimi mesi un po' difficili mi sono state vicine, veramente. Va bene, un boccalò per le prossime partite. Oddio, con la medaglia, però. Ciao, ciao, un saluto.